Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui gli domandò, maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse, perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci comandamenti, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse, maestro, tutte queste cose le ho osservate fino dalla mia giovinezza. Allora Gesù lo fissò, lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse, una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo e vieni, seguimi. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli, quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezza entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole. Ma Gesù riprese e disse loro, figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro, e chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse, impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Pietro allora prese a dirgli, ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose, in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Parola del Signore. Sempre per la strada, Gesù, grande camminatore, avvengono gli incontri più importanti. In questo caso, nella brano di oggi, noi abbiamo ascoltato l'incontro che noi chiamiamo con il giovane ricco, perché non sappiamo il nome di questo ragazzo o di questo uomo, giovane uomo, perché lui è assetato, è assetato di senso, è assetato di vita e fa la domanda fondamentale, cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Ecco, cioè come faccio per salvarmi, per essere salvato meglio da Dio? E Gesù dice ci sono i comandamenti, quella è la strada, lo dice a lui, lo dice a noi, la strada della vita. L'ho fatto fin dalla giovinezza, vuol dire da quando ero bambino, li ho osservati. Allora c'è un tratto che è solo di Marco quando racconta questo incontro, Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse. Non è che prima non lo amava, ma vuol dire lo guardò con uno sguardo in un certo senso di predilezione. Ha capito Gesù che poteva chiedere di più a questo giovane, che nel suo cuore c'era un desiderio di pienezza che andava al di là e allora gli propone la radicalità, vendi quello che hai e dallo ai poveri, avrai un tesoro in cielo e poi seguimi. Seguire Gesù radicalmente, quanti giovani, quante ragazze ancora oggi il Signore chiama a questa scelta radicale e quanti anche lo seguono, anche se noi vediamo ci sembrano sempre pochi, ma ci sono. E nel cuore di tutti Gesù scava e a tutti chiede, magari non a tutti una scelta così radicale di povertà, di castità, di obbedienza, ma a tutti i discepoli Gesù chiede di seguirlo in maniera autentica, ognuno nella sua situazione. Certo, la ricchezza, che non è solo l'accumulo di tanti soldi, di tante cose, ma ci possono essere tante ricchezze in senso negativo, l'attaccamento alla propria posizione, ai propri progetti, alla propria persona, ci impediscono di seguire radicalmente Gesù come l'hanno impedito a lui. Infatti i discepoli si meravigliano, ma allora chi si può salvare? Perché una volta si pensava al tempo di Gesù che la ricchezza fosse una benedizione di Dio, invece Gesù propone un'altra strada, la strada della povertà, dell'essenzialità, della condivisione. E allora Pietro gli dice, e allora noi che abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito? Ecco, a chi lascia tutto, a chi segue con radicalità, Gesù lui gli promette il centuplo, cento volte tanto, in case, fratelli, sorelle, madri, figli e campi, insieme a persecuzioni e nel futuro la vita eterna. Ecco, però è vero questo, tutti quelli che l'hanno vissuto, hanno vissuto questa sequilla così radicale di Gesù lo sperimentano, di avere una nuova famiglia, di avere moltiplicati gli amici, i fratelli, le sorelle, tante persone che ti vogliono bene, di avere, non di avere ricchezze in senso materiale, ma di avere tante case che si aprono, tanti cuori, tanti abbracci, tante, tante ricchezze di relazioni. Gesù moltiplica la vita, Gesù moltiplica, a chi, a chi dà, non si fa superare nei doni, Dio non si fa mai superare nel dono.